Buonasera a tutti, Giro d'Italia 2023, tredesima tappa da Le Chable a Cranmontanà, 74,6 km. Si, 74, come 74? Ebbene si, perché la tappa sarebbe dovuta partire da Borgo Franco di Rea, però tra mille polemiche è stata accorciata, quindi è stata praticamente tagliata in toto la salita del Gran San Bernardo e si è partiti appunto dalla Chable con l'ascesa della Cua de Cœur, poi discesa a un tratto di 20 km in pianura e la salita finale verso Cranmontanà. Ma ci torneremo tra poco, perché sono successe tante cose in questi quattro giorni, è successo veramente di tutto, tra Covid, cadute, maltempo. A proposito di maltempo, ci eravamo lasciati a Cesena con l'Agronometro e proprio in quelle zone sta succedendo la catastrofe che tutti sappiamo, quindi speriamo un pensiero di cordoglio per le vittime dell'alluvione in Romagna. Abbiamo detto che è successo di tutto, il primo colpo di scena è stato alla fine del cronometro di Cesena, dove è bene pure in maglia rosa, è stato trovato positivo al Covid e si è ritirato. Senza neanche attendere il giorno di riposo dell'indomani per vedere se magari si metterà a posto, la squadra ha deciso di ritirarlo al Giro d'Italia. E francamente una spiegazione piuttosto inquietante l'ha espressa un dirigente della Sud a Quickstep che ha detto temiamo un nuovo caso col Brelli. Quindi evidentemente nel gruppo Covid viene ancora ritenuto così pericolosa che può addirittura causare problemi cardiaci ai corritori. E' come se non bastasse, poco dopo è arrivata la notizia di Polans, il Corridore della UAE non presente al Giro d'Italia che ha abbandonato l'attività agonistica per problemi cardiaci appunto. Lui che al Giro d'Italia ha sempre fatto molto bene, ha indossato la maglia rosa e ha vinto TAP. Ecco però abbiamo detto quello di Evenepul è stato solo all'inizio. Il giorno dopo Vlasov, anche lui malato, quanto pare non di Covid, si è staccato fin dai primi chilometri, si è ritirato. E poi il giorno successivo ancora c'è stata una rovinosa caduta che ha coinvolto dagli altri covi, anche lui che ha stretto il ritiro, ma soprattutto Goggenhardt che era in piena lotta per vincere questo Giro e frattura dell'Anca, ritiro anche per il britannico della Ineos, quindi solamente Geraint Thomas a guidare la formazione di Baysford, un Thomas che in seguito al ritiro di Venepul ha anche indossato la maglia rosa. Ancora tanta pioggia, comunque abbiamo detto quello che sta succedendo in Emilia Romagna. Pioggia che chiaramente è stata decisiva anche nel provocare tante cadute di questi giorni. Tantissimi altri ritiri per Covid, segnaliamo tra gli altri Rigoberto Urano e Pozzo Vivo, ma anche parecchi altri corridoi da sud al Quick Step, come Irte, come Nervega, tra gli altri. E polemiche anche su questo caso, sempre qualcuno da Quick Step ha detto che non si doveva permettere a Jumbovisma di prendere via il Giro, visti i casi di positività che avevano coinvolto la formazione olandese. Ma adesso andiamoci a vedere velocemente cosa è successo nelle tappe precedenti a quella odierna e poi parliamo anche di quello che è successo verso Gran Montanà. Decima tappa, è arrivata la fuga, tre corridori in particolare hanno esistito il ritorno del gruppo. Magnus Cortniss, nettamente più veloce dei tre in volata, ha avuto una meglio su Derek Guy e su Alessandro De Marchi, un De Marchi che, a differenza di qualche giorno fa, mi riferisco ad Appri Salerno, è riuscito appunto a rimanere davanti, allora era in fuga con Clark, sono stati ripresi in extremis. Però niente da fare, De Marchi in volata non ha avuto chance. Contro Cortniss, quindi Timberton, il cartellino anche in questo Giro d'Italia. Lui che ha già vinto d'apertura alla Vuelta e che non aveva combinato Gran Kefi in quella corsa rosa e poi Pedersen a regolare il gruppo degli seguitori con Ackermann, Oldani, Milan, Cavendish e via via tutti gli altri, però anche qui tante cadute ne hanno fatte le spese oltre a... ne hanno fatte le spese diversi corritori e non Gokenard perché Gokenard cadrà il giorno dopo. Infatti notiamo che sono arrivati staccati con undici minuti di ritardo, corritori che hanno ben messo in classifica generale come Jay Vine della UAE, come Fortunato e come Rubio, eccoli qua, ritroviamo Fortunato centoseiesimo, Rubio poco dietro. Hanno perso undici minuti, sono usciti di classifica. Qui c'era ancora Yurt in corsa, ma si ritirà per Covid il giorno dopo. E vediamo quest'altro gruppone a 23 minuti con Barghil tra gli altri, anche lui caduto, item di Casivare Luisson Sanchez. Vediamo tanti ritiri, Vlasov si è ritirato, come detto si è staccato all'inizio della tappa e poi tanti ritiri per Covid, Arme, Pozzavivo, Run, Bistrom che è gareggiato qualche giorno nonostante già fosse positivo al Covid e anche questo ha suscitato polemica. Non è partito soprattutto Renko e Venepul. Passiamo ora a vedere velocissimamente il risultato della undicesima tappa. Questa è la decima tappa da Scandiano a Via Leggio. L'undicesima tappa si è conclusa in volata da Gamayor e Tortona, anche cui pioggia, ed è stata la tappa della caduta di Guggenhardt. Ha vinto in volata Ackermann che ha resistito al ritorno di uno straipante Jonathan Milan che ha iniziato la volata molto indietro e poi proprio al photofinish non è riuscito a beffare il tedesco della WEC, dunque torna a vincere il Gio d'Italia, lui che ha combinato poco nelle ultime stagioni. Terzo Cavendish, quarto Pedersen, un Pedersen che però si ritirerà appunto alla vigilia della tappa di Gran Montanare, quindi Milan acquisisce un vantaggio importante nella classifica a punti, quindi Milan che sta indossando Amalia Ciglamino. Ancora tanta Italia nella top ten, Oldani, Albanese, Ballerini, Consonni, tutti nei primi dieci e nel mezzo Marofo e Marit, altri due che abbiamo visto spesso protagonisti nella volata di questo Gio. Andiamo a vedere e scorrere la classifica di giornata per soprattutto per segnalare i ritiri che ci sono stati. E appunto Gogenhardt, Rodriguez, anche ambe due caduti e poi abbiamo visto quattro uomini da su da tutti positivi per Covid, Catano, Cerni, Irte, Verveche e identica sia anche per Vendramme, Caicedo, Gandin e Tesfasion. Passiamo ora alla dodicesima tappa che andava da Bra a Rivoli con una salita abbastanza impegnativa nel finale con le Braida, qui è arrivata la fuga. Una fuga di trenta corridori, tutti abbastanza staccati in classifica generale. Il migliore è la Conrad della Bola che era distanziato di circa otto minuti della nuova maglia rosa Thomas. Stranamente i quattro corridori se ne sono andati dalla fuga, che sono stati i primi quattro al traguardo, Dance, Coons, Berwick e Tonelli, e dietro gli altri 26 hanno lasciato i fai, hanno lasciato che questi quattro prendessero tre minuti di margine e se ne sono giocata loro. E Dance in volata è stato superiore a Coons e a Berwick, con Tonelli che si è staccato da questi su Colle e Braida. E buon finale tappa di Marco Frico, che ha dimostrato buone qualità in salita, tutta l'Isola sta andando forte in questo giro, nonostante non schierasse grandi nomi, al di là di Pozzovivo che, come detto, si è irradiato per Covid. E a 2.20 un gruppetto con diversi italiani come Bettiolo, Scaroni e Formolo, gruppo regolato da Van Wilder, che è rimasso praticamente l'unico della Suda, l'ingaro quasi. C'era anche Kuss in questa fuga, Rubio, tutti atleti però lontani, in classifica generale. Anche Fortunato, Fortunato è venuto più indietro, ventesimo a 3.51. Un gruppo di 30 uomini, qualcuno è stato ripreso, Calma Piatta nel gruppo Maglia Rosa, sempre con la Inos a controllare la situazione, con Sivakov. Un Sivakov, anche lui caduto, ha perso molti minuti, è uscito di classifica. Quindi sono, oltre a Thomas, quelli ben messi, ancora in gradutario generale della formazione britannica, che erano De Plus e Alex. Ma nel trentesimo, Dennis in crescita rispetto ai primi giorni di questo giro, con tutto il blocco da Jumbovisma. Via via tutti gli altri, un gruppo di una quarantina di atleti con tutti gli uomini di classifica, nonostante il ritmo non fosse stato sostenutissimo sul Colle Brida. Tanti sono staccati, ma appunto tutti gli atleti già lontani da Thomas, dalla Maglia Rosa Thomas, e ancora Jay Byne in ritardo, Dombrowski, questo gruppo, poco più indietro addirittura il gruppo con Cavendish, che è arrivato a 20 e 44. La temi all'aria, che qui si sono ritirati Shirel, Groves, Vanucke, e non è partito Covi, per le conseguenze della caduta che ha coinvolto anche Gokenhardt. Andiamo a vedere come era il classifica generale al termine di questa dodgesima tappa. Appunto, Thomas leader, con due secondi su Rogic, 22 su Almeida, 35 su Lake Nessun, 1,28 su Caruso, che è risalito al quinto posto, poi Chemna, 1,52, Dunbar e Heisman, 2,32, The Plus, 2,36, dunque tre uomini della Inos nei primi nove, e poi Paripentra, decimo, a 2,48. E portiamoci quindi alla tappa odierna. Una tappa odierna che è stata accorciata a 74 chilometri, perché i corritori hanno chiamato in causa il cosiddetto Extreme Protocol Weather, e appunto il protocollo per le condizioni climatiche estreme. Loro chiedevano che fosse tagliata la discesa della Quade Care, in realtà, perché la ritenevano evidentemente pericolosa per via del freddo che c'era in cima, e quindi di rappare di un asfalto anche non perfetto nella discesa. Mentre invece, in una termine di una riunione, insomma, il direttore di Corsa Avegna ha optato per tagliare non la Quade Care, che è stata affrontata ugualmente, ma bensì il Gran San Bernardo. Già non si sarebbe arrivato in cima per via della neve, lo scordinamento era stato posto a 5 chilometri dalla retta, poi si passava il traforzo, si faceva la discesa. Comunque alla fine, niente del Gran San Bernardo, è stata invece affrontata la Quade Care. Certo che sa di fatto che le condizioni metro non erano affatto estreme. Alla fine addirittura uscito il sole sulla salita finale verso Gran Montanà. Sì c'è stata un po' di pioggia sulla Quade Care, però niente di che è nella discesa, detto per inciso, non è caduto nessuno, almeno per quanto riguarda i bigli, poi non sappiamo se ci sono state cadute nelle retrovie. Insomma, non una bella figura fatta dire da tutti, né dagli organizzatori, né dai corritori. Come ripetiamo, si dice protocollo per le condizioni climatiche estreme, però le condizioni climatiche non erano affatto estreme. Vabbè, comunque, 74 km, questo cambiava anche la situazione, sia dal punto di vista tattico, con la partenza e salita, che anche dal punto di vista, possiamo dire, tecnico, perché era più importante, diciamo, la brillantezza dei corridoi, essere subito pronti in partenza, piuttosto che il fondo, come sarebbe stato con la tappa originaria, una tappa di 200 chilometri, con tre salita importanti, ridotte poi a due. Comunque, c'è di fatto che fuoco e fiamme, fin dalla partenza, il primo da attaccare è stato Vacek della Kovatek, però poi ha avuto un problema meccanico, quindi è stato tagliato fuori, e molto attivi gli uomini della Education Easy Post, con Sepeda, con Illy e soprattutto con il capitano Jukarti, e molto attivi gli uomini della Grupa Ma, in particolare, con Army Ryle, e anche qui con il capitano, un tipo Pinot, che non è stato benissimo nelle ultime giornate, ma ora sembra essersi ripreso. Questo primo tentativo di 13 atleti, c'era anche J. Vine, tra gli altri, c'era Dombrovski e tanti altri, è stato però annullato dalla Ineos, perché Kovatek era troppo vicino al classifica generale. Dopodiché si sono avvantaggiati i sette, di nuovo Army Ryle e Pinot, e poi ancora Valentempa Repent, il fratello di Orelien che l'ha ben messo in classifica, e quindi Sepeda, Rubio, e poi i due uomini della Iser, vado a dire Riccitello, e ancora una volta David Ghi, che ha già collezionato due poli di tappa in questo giro. E questi sette uomini sono riusciti ad andassene, perché dietro la Ineos ha controllato, ok? Pinot ha distanziato di poco più di quattro minuti in classifica generale, ma evidentemente non faceva paura i britannici, e quindi la situazione del gruppo Magliosa si è calmata, e questi sette uomini al comando, tra la salita e la successiva discesa, hanno potuto guadagnare fino a quattro minuti di margine sul gruppo. Sette uomini rimasti in cinque, perché sia Army Ryle che Riccitello stanno facendo i soldi staccati, un Pinot ne ha approfittato per transitare per primo in metto alla Croix de Caire, e quindi guadagnare punti nella classifica degli scalatori, e chiaramente Davide Baez, su questa lunga salita, lui che indossava la maglia di leader di questa graduatoria, si è staccato. E non solo lui, perché ci sono state anche vittime illustri della andatura sostenuta, tenuta soprattutto nei primi chilometri, e tra questi Jack Hade, che era il secondo uomo di classifica della Baren Victorious dopo Damiano Caruso, un Jack Hade che riuscirà comunque a rientrare in discesa, ma si staccherà definitivamente sull'ultima salita, e riuscirà definitivamente di classifica. La situazione si è abbastanza calmata, c'è stato un accenno di accelerazione proprio della Baren Victorious, la formazione a questo punto di Caruso, che però immediatamente si sono fatti da parte, appunto i corridori in maglia lanciano, è tornata davanti da Inos, ha rallentato l'andatura, e quindi la situazione si è calmata a fine peda dell'ultima salita. Cinque uomini al comando, Pinose, Peda, Rubio, Parepenter e Guy, e all'inseguimento il gruppo che nel tratto in pianura, grazie al lavoro di Swift, che ha tenuto molto bene in salita, ed un Sivakov non al meglio per via della caduta dell'altro John, ha ridotto il distacco dei primi da 4 a 3 minuti, quindi tenendo sotto controllo in particolare Pinot, che come detto era abbastanza vicino in classifica generale, e davanti si è scatenata la lotta per la vittoria di tappa, un Pinot che ci ha provato 6-7 volte a fare la differenza e sempre se Peda gli andava dietro, non correva buon sangue tra i due, anche perché se Peda non ha mai tirato, e la ragione per cui non ha mai tirato è ovvia, Pinot è un rivale diretto di Jukarty in classifica generale, Carty che è il capitano dell'Education Easy Post. Lo stesso se Peda ci ha provato in un paio di occasioni a fare il vuoto, e la prima volta sembrava riuscire appunto a prendere il largo, però Pinot e anche Rubio sono tornati sotto sempre, mentre si sono stati facendo staccati Parepenter e Guy, e quindi tre uomini al comando che si sono giocate praticamente fino alla fine, alla fine Rubio che non era mai scattato in precedenza e che appariva essere più debole tra i tre, e in volata è stato negli ultimi 400 metri praticamente è partito, e Pinot ha provato a resistere ma anche lui ha dovuto arrendersi, e quindi vittorio per il colombiano Rubio, che come detto era uscito di classifica nei giorni scorsi per via del caduto, secondo Pinot, terzo se Peda, mentre dietro nel gruppo maglia rosa, la Inos non aveva nessun interesse a tenere il ritmo sostenuto, la Thomas va benissimo mantenere lo status quo, lui che ha due secondi di vantaggio sul Loki, e la sua carta può giocarsela con lo soveno nella con scalata del Lussari, e il primo a scattare è stato Fortunato, ormai lontano in classifica generale, e poi soprattutto Yucati, che abbiamo già visto sulla Cora de Caer, aveva intenzione bellicose quest'oggi, e Carti e Fortunato hanno proseguito insieme per qualche chilometro, con Carti che aveva nel frattempo raggiunto il Corridore Italiano, poi Fortunato però è rimbalzato indietro nel finale, evidentemente è una grande condizione, e anche lo stesso Carti non è riuscito a guadagnare granchè, e appunto sempre Rinos davanti, con De Plus, dopo che avevano finito la benzina Swift e Sivakov, finchè finalmente a un paio di chilometri in alto a quadro c'è stata l'accelerazione di uno della Bahrain Victorious con Butrago e con Caruso, e quindi un Caruso che è scattato per aver cercato di guadagnare terreno sui diretti rivali, non ci riuscirà, però significativo che il fatto che il Corridore Siciliano non sia contento della posizione che occupa attualmente in classifica, è quinto se non erro, ma cerchi di andare alla caccia del podio. Nuno di fatto, comunque Thomas ha preso in mano dura situazione, con la ruota Rogic, Almeida, Chemna, lo stesso Lechnes, un cartellino molto bene, praticamente tutti gli uomini di classifica, nel finale c'è stato anche un allungo di Dunbar, del Jacob, che è stato la sua volta però ripreso dal Protoncino con Malgrosa, e praticamente i bigli sono arrivati tutti insieme quasi al traguardo, regolati da Joao Almeida. E andiamo a vedere la classifica di questa tappa più che dimezzata che si è conclusa in Svizzera a Cranmontana. Vittoria di tappa, come detto, per Rubio, davanti a un Pinot che alla fine non guadagna tantissimo in classifica generale, ha guadagnato 1,29 sul gruppo Maglia Rosa, poi il terzo sepeta a 12 secondi, quarto chi che è riuscito a non farsi gli assorbire dal gruppo a 1,01, parepente, idem come sopra, e parepente che nel finale è stato raggiunto da Jukarti che alla fine, nonostante il grande sforzo, lui che è partito a 6-7 km al traguardo, è riuscito a guadagnare soltanto 6 secondi sui diretti rivali, che sono arrivati assieme con Almeida, Dunbar, Thomas, Rogic, un buon Leonard Kemna che è rimasto il capitano della bola in seguito a ridio di Vlasov, Kus in crescita sicuramente in queste ultime giornate, come tutta Jumbo Visma, e lo vedremo guardando la classifica di tappa, e poi a chiudo il gruppetto da Maglia Rosa, Caruso, la fine di stacchi sono stati minimi e anche perché, rivediamo, la tappa era di 74 km e tutti sono arrivati abbastanza freschi. Lechnes è un detenuto molto bene, ha perso solo 7 secondi da Thomas, arrivato a 1,42, Haisman, al pari dello stesso De Plus, comunque rimangono in classifica, 1,48, il distacco dalla testa dell'olandese, 2,07, Gödelberg, nel mezzo Van Wilder che dimostra che sarebbe stato un ottimo gregario di Evenepul, arrivato al sedicesimo, 1,51, tanto a Jumbo Visma che potrebbe inventarsi qualcosa nei giorni scorsi, però probabilmente Rogic per il senso di avere lui la meglio su Thomas nella cronoscata dell'Ussai, però se fossi Rogicic mi ricorderei di quello che successe alla Placida e Belle Figlie, al tour del 2020, in cui fu asfaltato da Pogaciar, e non solo da Pogaciar, perché fece una cronoscata o similità ad abbastanza dimenticare. Dunque, 2,07, il distacco di De Plus, di Bowman, di Panepent, che ha perso quindi leggermente terreno rispetto ai rivali, di un Buitrago non brillantissimo in questo giro e, appena più indietro, fortunato, che, come ho detto, ha provato ad attaccare, ma poi non è riuscito a fare la differenza, a 2,22 McNaughty in crescita, che è rimasto quasi fino alla fine a fianco di Almeida, e poi altri due uomini della Jumbovisma, che fin qui non avevamo mai visto davanti, anche perché sono stati convocati al giro all'ultimo momento, parliamo di Thomas Glock e di Ron Dennis, a 3,13 e 3,39 rispettivamente, e poi via via tutti gli altri, i Barghill a 4,42, lui si è staccato già sulla quadre che poi era entrato e si è staccato nuovamente, a 4,53 un gruppetto con un buonzana, con Diego Ulissi e con Conrad, che, quindi, riperde sostanzialmente il terreno che aveva guadagnato il giorno prima, nella tappa di Rivoli, giornata nera per Hake, che perde 5 minuti e 15, ovvero 3 minuti e mezzo circa, rispetto agli altri uomini di classifica, e poi via via altri corritori che erano riusciti a rimanere nel gruppo di testo, vicini sulla quadre che si sono staccati sull'ultima salita, da questi Mattia Weiss, Covilli, Velasco, che era ben messo in classifica della Stana, e idem digasi per l'asta della Cofidis, e proseguiamo nel vedere la classifica di giornata, al momento risulta solo 52 corridori al traguardo, non è partito Max Pedersen, come ha detto, è da segnalare che Matthews era ancora nel gruppo dei migliori, o vicino, ai piedi della salita finale, quindi era riuscito a tenere botta sulla quadre che, per il momento, la classifica di giornata riguarda solo 52 corridori, attenzione perché il tempo massimo è stato, è vero che è stato allungato, oggi dal momento la tappa era molto corta, però è di mezz'ora, quindi non è da escludere che molti corridori, ad esempio Ackermann che è stato in assoluto il primo a staccarsi, molti corridori rischiano di essere arrivati fuori tempo massimo. Andiamo, quindi, a vedere come è cambiata, o meglio, non è cambiata, o quasi, la classifica generale, che vede le mie nuove posizioni invariate, con Thomas in maglia rosa, sempre due secondi sul Rogic, 22 su Almeida, 42 su Leknessun che ne ha persi 7, 1,28 su Caruso, 1,52 su Chemna, 2,32 su Dunbar, questi 7 atleti, ad eccezione appunto di Leknessun, sono arrivati assieme al traguardo. Poi, ottavo e nono, sempre Heisman a 2,45 e De Vlust a 3,08. Grazie alla fuga odierna, risale di 5 posizioni Thibaut Pinot a 3,13 che scavalca Carti a 3,16 e, ora nel paripento, un po' in difficoltà nel finale, a 3,20 min. Passiamo a vedere come si presentano le altre classifiche. Nella graduatoria a punti, Milan, sempre che sia riuscito da dare al traguardo, è saldamente ora al comando, con 164 punti, quasi il doppio di Ackermann, che ne ha 88, e Ghia addirittura a terzo, grazie al piazzamento odierno, a quota 71, sta disputando un ottimo giro il canadese. Cassifia degli scavatori, che ha visto Pinot accogliere tantissimi punti sull'Usa di Gadiern, e riportarsi al comando, con 108 punti, contro 104 di Bikes e 58 del vincitore di Erno Rubio. Cassifia dei giovani, che non abbiamo ancora, ma che vede chiaramente al comando, Almeida. Mentre nella graduatoria a squadra, potrebbe esserci la Inos davanti, oppure la Jumbo Visma, che ha guadagnato terreno il giorno prima con Kuss e Heisman in fuga. E quindi, facciamo una brevissima pausa. Riprendiamo, torniamo a guardare velocemente l'odio ed avvio, perché sono arrivati poi tutti al traguardo, tutti dentro il tempo massimo, sono aggruppati in discesa. Sono arrivati quasi tutti assieme a 20 e 56, a cominciare da Roas, in questo gruppone con dentro Ackerman, che dunque non ha avuto problemi. E poi corritori importanti, come Mollema. Andiamo a trovare Puccio, Gregario di Thomas alla Inos, Benili, che è stato la prima da attaccare. Poi ancora, anche a te, di Bobby Ungers, che non sta brillando in questo Gio d'Italia. Marco Frigo, protagonista di una tappa di Rivoli, come Bettiola. Anche Milan Gio d'Italia, non ha avuto problemi a chiudere dentro il tempo massimo. Corta Nilsen, vincitore di una tappa. Poco più indietro anche Gio Ivani, che aveva attaccato in avvio, però poi anche lui ha perso terreno. Lui che ormai è fuori classifica. Un po' più indietro, con un distacco intorno ai 24 minuti. Tra gli altri troviamo Gaviria con Sonny. Camendish, che è stato accompagnato il traguardo dei nostri Moscon e Bartistella. Ultimo a 25-23, Alessandro Verre. Probabilmente qualche problema fisico per il persistere scalatore dell'Archea. Come detto, non ha preso il via Mark Pedersen. Possiamo quindi concludere con la rassegna per quanto riguarda la troppa di Erna. Quattordicesima tappa. Da Sierra a Cassano Magnaco. In avvio si torna in Italia attraverso la lunga scesa del Sempione. Una scesa lunga, ma lontanissima dal traguardo, e su cui, quindi, presumibilmente non succederà nulla. Vedremo chi sarà i protagonisti della fuga di giornata. Ci sono 150 km di pianuro, quasi, dalla vetta del Sempione al traguardo. E poi, a chiudere la seconda trance di questo Gio, perché poi ci sarà il giorno di riposo, c'è la quindicesima tappa da Seregno a Bergamo. Una frazione di 195 km con diverse salite. La più dura è la prima, dirà il vero. Il vaico di Valcava. Una salita tipica del Gio di Lombardia. Poi ci saranno a metà percorso il Selvino e subito dopo il Miracolo San Salvatore. Sul Selvino Rominger vinse una corsa scalata nel 1995, infliggendo pesanti distacchi rivali e Rominger che vinse anche con il Gio d'Italia. E poi il finale con la Roncola, un'alcesa piuttosto dura di 10 km, 6,7% circa. La vetta posta una trentina di chilometri al traguardo. Discesa, un tratto in pianura e poi lo strappo di Bergamo alta, o boccola che dir si voglia. Uno strappo, anche questo tipico del Gio di Lombardia quando si arriva a Bergamo. Uno strappo in cui una teta come Rogic potrebbe tentare un corpo di mano per cercare magari di prendere la maglia rosa. E tra l'altro, guardando nuovamente la classifica generale, non è chiarissimo chi deve attaccare, perché Rogic, Thomas e Almeida hanno tutte caratteristiche simili. Sono leti che ne ha conoscato del Lussari, comunque le sue caratteristiche vanno forti. Idem di casi per Kemna. Ecco, oggi abbiamo visto provarci Caruso nel finale, però anche lui non è uno che attacca da lontano, di solito. Lui il quinto posto andrebbe tutto sommato bene, anche se è uno che sul podio al Gio c'è già salito. Lenknesund ovviamente dovrà solo difendersi. Yucati è uno che potrebbe attaccare da lontano, però abbiamo visto, oggi ci ha provato, ma alla fine ha guadagnato solo 6 secondi. Vi diamo comunque appuntamento a domenica per questa tappa di Bergamo e ciao a tutti.